Zeli, i giorni passano, si avvicina l'appuntamento elettorale di febbraio, non c'è ancora il candidato unico del centro-destra di cui tanto si parla? Il problema non è che non c'è il candidato, è che non riusciamo neanche ancora a vederci per definire quali sono le linee per il candidato, quali sono i programmi sui quali il candidato poi dovrà fare la sua campagna elettorale, quali sono gli accordi all'interno del centro-destra per capire quali sono le priorità di ogni movimento, perché noi abbiamo le nostre, l'Italia avrà le sue, la Lega avrà le sue, ognuno ha le proprie priorità e quindi vanno discusse e vanno viste insieme. Nelle ultime ore è arrivata l'ennesima, chiamiamola così, bocciatura da parte questa volta di Forza Italia, della Terna di Fratelli d'Italia, questi nomi che non convincono del tutto. Non solo Forza Italia, Forza Italia ha chiesto l'azzeramento della Terna, noi abbiamo chiesto l'azzeramento della Terna, la Lega ha chiesto quasi l'azzeramento della Terna dicendo che se proprio deve scegliere eventualmente può andare su Foschi. Secondo me uno dei motivi per cui noi ci riuniamo è perché forse non si vuole accettare questo, cioè i tre nomi, noi abbiamo il ritorno dal tavolo nazionale che devono essere condivisi sui territori, i territori lo stanno condividendo sui giornali perché non si riesce a fare neanche una riunione e la condivisione è che nessuno vuole quei tre nomi. Zelli, tra l'altro nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni di Giandonato Morra, dichiarazioni che voi oggi volete in un certo senso commentare, ma al di là di questo ribadire il concetto che in questa partita ci sono anche le civiche. Sì, assolutamente, le civiche sono parte fondamentale della coalizione centrodestra, lo abbiamo detto dall'inizio e soprattutto stiamo lavorando dall'inizio. C'è una parte cospicua dell'elettorato abruzzese che fa riferimento e si riconosce in una serie di liste civiche di cui noi siamo una parte, chiaramente una parte rilevante, ma comunque una parte che Fratelli d'Italia, in particolare vista la dichiarazione Morra, dovrebbe cominciare a tenere conto. È vero che serve il tavolo regionale, è vero che serve indirlo, ma è altrettanto vero che va riunito con le forze civiche. Quindi noi siamo pronti, anzi siamo noi che stiamo chiedendo da un mese di fare questo tavolo, però Morra si ricordi che ci sono anche i movimenti civici.